ben tornati sulle frequenze di we are the net molto bene oggi vi voglio parlare di una cosa che mi è capitata che mi sia comparsa più volte nello scorso anno in diversi modi nello scorso anno intendo prima di settembre diciamo così ed è il concetto giapponese dell'ikigai che cos'è l'ikigai innanzitutto dove che dove mi è arrivato ho letto diversi diversi libri di filosofia l'anno scorso mi ero appassionato moltissimo di filosofia sono appassionato sono tuttora appassionato di filosofia orientale orientale e ho letto di diverse cose visto diverse cose altre altre cose e il concetto giapponese dell'ikigai mi ha particolarmente colpito tant'è che sono andato a cercare delle informazioni di più su altri libri ho trovato anche un audiolibro per chi fosse abbonato a audible c'è questo audiolibro che ritengo un buon audiolibro che se adesso riesco a riaprirlo è cosa buona e giusta eccolo qua filosofie ne ho già parlato è filosofia giapponese tecnico orientale di sviluppo personale per trovare il tuo ikigai liberarti dalle preoccupazioni e raggiungere i tuoi obiettivi in tutta serenità crescita personale di roberto morelli ne ho già parlato in puntate un pochino più vecchie ma l'ikigai tra l'altro c'è anche in altri in altri libri che ho trovato sempre su audible uno era proprio aspettate che anche qua dove andarlo a cercare in libreria velocemente giapponese dovrebbe essere questo ikigai e filosofia no non è vero non è questo il metodo ikigai eccolo qua di marta tau la via giapponese della felicità allora proviamo a spiegare che provo a spiegare che cos'è l'ikigai il concetto di ikigai profondamente c'è un po di musica di sottofondo no poi ho tolto la cosa eccolo qua il solito jack che suona poi col suo banjo il concetto di ikigai profondamente radicato nella cultura giapponese è una filosofia di vita che si concentra sulla ricerca di un equilibrio tra il benessere personale e la realizzazione di un obiettivo più alto letteralmente l'ikigai è composto dalle parole giapponese iki vivere e gai ragione valore traducibile come ragione di vivere o motivo per cui alzarsi al mattino qualche corsi di business ci viene chiamata mission che mission personale questa idea è un pilastro del modo di vivere giapponese e si ritiene che contribuisca al raggiungimento di una vita lunga soddisfacente e piena di significato la struttura dell'ikigai l'ikigai si costitu costruisce attorno all'intersezione di quattro elementi chiave ciò che si ama ciò in cui si è bravi ciò in cui il mondo ha bisogno e ciò per cui si può essere pagati questi giapponesi materialisti questi elementi non sono separati ma piuttosto si intersecano in un modello dinamico che riflette la complessità della vita umana e delle sue aspirazioni uno ciò che ami passione questo elemento riguarda l'individuazione delle attività che ti fanno sentire vivo energetico e felice e la manifestazione delle tue passioni degli interessi che coltivi e che ti motivano intrinsecamente indipendentemente dalle ricomperse ricompense esterne ricompense mi è uscito più montesismo due ciò in cui sei bravo vocazione qui entra il gioco il riconoscimento delle tue abilità e competenze non si tratta solo di ciò che ti piace fare ma di ciò in cui eccelli della capacità che hai sviluppato attraverso l'esperienza e la pratica ciò di cui il mondo ha bisogno aspetta la pratica punto e scusate perché ho tutti gli appunti tre ciò di cui il mondo ha bisogno missione questo è l'elemento che connette l'individuo alla società riguarda l'identificazione di una causa o di un bisogno che puoi soddisfare un modo per contribuire al benessere della comunità o dell'intera umanità è il ponte tra le tue passioni e il mondo esterno quattro ciò per cui essere pagato professione infine l'elemento pratico ed economico legato alla possibilità di ottenere un riconoscimento economico per il lavoro svolto questo non significa perseguire esclusivamente il guadagno ma trovare un equilibrio in cui le tue passioni e competenze possano tradursi in una carriera sostenibile l'intersezione dei quattro elementi l'intersezione di questi quattro elementi costituisce il cuore dell'ikigai quando tutte queste aree si sovrappongono si trova una condizione di armonia in cui la persona vive in una vita pienamente realizzata l'ikigai non è solo un punto statico ma un processo di evoluzione un percorso di scoperta che può cambiare e svilupparsi nel tempo quando una persona svolge un'attività che ama e in cui è competente ma che non soddisfa un bisogno sociale o non è remunerata vive una passione che può non essere sostenibile a lungo termine allo stesso modo lavorare in qualcosa che soddisfa un bisogno e che è ben pagato ma che non è in linea con le proprie passioni o abilità può portare a un senso di vuoto o frustrazione tipo quando facciamo un lavoro che non ci piace il ruolo dell'ikigai nella vita quotidiana l'ikigai secondo la cultura giapponese è un elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo non è raro che le persone nelle ragioni giapponesi con maggiori aspettative di vita come l'okinawa attribuiscono la loro longevità e felicità all'avere un forte ikigai questa filosofia non è una ricerca di successo ricchezza ma di significato e scopo dove ogni giorno è visto come un'opportunità per avvicinarsi al proprio ikigai il mondo in cui la ricerca del senso è spesso sopraffatta dalle esigenze materiali e dalle pressioni esterne l'ikigai offre una bussola per navigare la complessità della vita moderna è un invito ad esplorare, sperimentare e trovare quell'equilibrio che permette di vivere con pienezza gioia, un senso profondo di realizzazione la scoperta dell'ikigai non è un punto d'arrivo ma un viaggio continuo verso una vita autentica e appagante io lo trovo meravigliosa questa cosa e ti spiego anche perché unite un po' le cose partendo da un certo tipo di decrescita felice un certo tipo di minimalismo togli, 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 togli cerchi quali sono le tue passioni ricordo, ridico perché è fondamentale l'ikigai è formato da passione, vocazione, missione e professione qualcuno mi potrà dire eh, ma solo con le mie passioni non ci campo attenzione bisogna tendere a quelle passioni è logico che poi c'è tutto il mondo fuori perché poi questi dementi pensano che ci governano pensano di vogliono cambiare il mondo e ci mettono a fare delle cose che non ci piace fare e beh purtroppo uno da solo non può fare niente tanti può essere ma uno da solo non può fare niente se non cambiare la sua vita ma quando cambi la tua vita cambia anche la vita intorno a te questo ne sono sicuro e mi è successo davvero e dal 2014 quando ho cominciato il mio viaggio interiore che non è affatto finito ma sono diciamo a tappe perché adesso 2024-2014 sono dieci anni qualche tappa l'ho fatta non è che ci sono le tappe non sono uguali per tutti un po' come quando ho fatto il cammino di Santiago tu decidevi le tappe da fare l'arrivo era a Santiago per qualcuno e anche Finisterra quindi qualcosa ancora dopo io purtroppo a Finisterra non ci sono riuscito ad arrivare ma nei viaggi le tappe ogni tappa mi ha lasciato qualcosa mi ricordo quasi perfettamente tutte le tappe che ho fatto e sono anche le tappe della nostra vita né più né meno l'ikigai è una di quelle cose uno di quegli strumenti magari non ti piace per l'amor del cielo c'è un famoso meme ultimamente per l'amor del cielo trovo che sia utile si scontra un pochino forse con il desiderio la repulsione del desiderio buddista forse sì ma io sono in quella fase grigia comunque il lato grigio della forza un po' di qua un po' di là e comunque devo dire che la vita migliora poi ognuno prende la decisione che vuole ciao a tutti ci vediamo domani ciao a tutti